E di nuovo buonasera, la seconda canna che andiamo a presentarvi è la Durastuzia, Durastuzia per l'Italia, in quanto il primo progetto, il primo prototipo e la produzione di serie è avvenuta in Grecia. Questa è una canna da circa 4,35 metri in due pezzi simmetrici, con un tallone molto reattivo ed una cima tipica da pesca, abbastanza morbida, quindi in grado di segnalare anche le tocche più tipiche. Caratteristica della Durastuzia è la possibilità di utilizzarla con tutti gli stili di lancio, a partire dal side fino al pendolare. Questa, come dicevamo, è un prodotto che utilizza la lavorazione Squared per il frame esterno di carbonio, ossia, come vedete, una piastrellatura, e per conferire la massima armonicità all'attrezzo, unita a una quasi infrangibilità, anche la parte iniziale della cima, per circa 40 cm, ha una lavorazione Squared. La canna risulta molto leggera e utilizzabile in tutte le condizioni di pesca, dal mare calmo per la lunghissima distanza a mare mosso, quando servono piombature importanti, intorno ai 175 grammi, e in stile side, piombo che la canna supporta agevolmente. Grazie a tutti.